La distribuzione questa mattina è iniziata come da programma, in realtà anche venerdì sono state distribuite. Ci sono dei problemi telefonici perché noi abbiamo nel nostro comune 12.000 anziani over 65, senza contare le persone che hanno familiari immunodepressi, quindi è impossibile rispondere a tutti. Il telefono c'è, funziona, le linee ovviamente sono limitate perché è impossibile rispondere a tutti, però il telefono funziona e quindi l'attività è in corso. Stamattina c'è stato un gran via e vai qui al Codma presso il CB Club Matei per la distribuzione di mascherine che comunque continua. È chiaro che visti i numeri, viste le esigenze, noi consigliamo questo, di avere un po' di pazienza, visto che in questo momento comunque non si può neppure uscire di casa, di avere un po' di pazienza e riprovare. Ci sono anche degli orari e la distribuzione qui è aperta dalle 8.30 fino alla mezza e dalle 2 fino alle 19, dalle 14 fino alle 19. Quindi è chiaro che un po' di disfunzione il primo giorno ce l'aspettavamo, un po' di pazienza, rispondiamo a tutti, il telefono è attivo, chiamate solo quel numero e se proprio dovete uscire venite qua su a prendere le mascherine, ve le danno, sempre che comunque dobbiate uscire per fare la spesa. Questo è un messaggio. E poi è chiaro che in prospettiva il Comune di Fano non può garantire mascherine, una distribuzione così per sempre. Quindi tanto la diamo a chi ha bisogno a titolo gratuito. Poi per la fase 2 ovviamente dovremmo reperire mascherine a prezzo economico, distribuirle a tutti quanti i negozi, le attività che sono aperte in maniera tale che si possa arrivare a una distribuzione capillare. Grazie.